25 settembre 1903. Nasce a Daugavpils, in Lettonia, Mark Rotko. A dieci anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti. Nel 1925 raggiunge New York, dove studia con il pittore e poeta americano Max Weber all'Art Students League. Espressionista astratto, raggiunge la fama negli anni Sessanta grazie all'aiuto di Peggy Guggenheim, che gli organizza una mostra nella sua galleria di New York. I suoi lavori sono oggi esposti nei musei di tutto il mondo ed è considerato uno degli artisti più quotati. La sua opera, White Center, è stata battuta all'asta nel maggio 2007 per la cifra record di 72,84 milioni di dollari. Grazie a tutti.